Onorevole Zacchera. Eccoci qua Presidente. Semplicemente per sollecitare una risposta di interrogazione 4-00885, ancora del 2008 che non mi risulta riscontrata. E poi fanno una preghiera come parlamentare. Io sono un non fumatore e capisco che anche i fumatori abbiano le loro esigenze. Però qui dietro, dove ci sono i computer, nonostante il cartello vietato fumare, è una camera gas. Nel senso che veramente la situazione è un po' pesante. Propongo alla camera, ma perché non viene messo un vetro divisorio tra qui i locali dei computer e il corridoio? Nel corridoio che si aprono le finestre i fumatori giustamente si fumano la loro sigaretta. Ma chi lavora attaccato al computer, magari per delle mezz'ore, non è asfissiato da questa situazione. Io l'avevo già fatto presente a quest'ora il tempo fa, ma non ho avuto risposta. Secondo me è un modo, come ha risolto al Senato, stiamo inscatolando un pezzo di corridoio per contemperare le esigenze di tutti. Grazie. Grazie a lei, onorevole Zacchera. Accogliamo la sollecitazione a rispondere all'interrogazione per quanto riguarda il problema dei fumatori. Faremo presenti ai questori di prendere in esame la sua richiesta. Grazie a lei, onorevole Zacchera. Grazie a lei, onorevole Zacchera.